Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori, e benvenuti in questo nuovissimo mega video. 1, Fabio. A quanto pare Carlo non riesce a smettere di fare dei scherzetti. Comunque, se Rai 3 chiudesse nel 6072, succederebbe una super duper iper ultra mega catastrofe. Meglio lasciar stare. Media Shopping, nato il 30 settembre 2005 e chiuso il 1 marzo 2011, è stato un canale televisivo tematico gratuito italiano del gruppo Mediaset. For New, nato il 1 marzo 2011 e chiuso il 20 maggio 2013, For You è stato un canale televisivo gratuito italiano del gruppo Mediaset. Trasmetteva principalmente televendite e targate media shopping, unitamente a film, tv movie, fiction, telefilm e produzioni. Se canale 5 trasmettesse Il Signore degli Anelli? Forse. Speriamo. Sky o Discovery? Tutti e due. Tammy Warner è la ragazza della quinta elementare di South Park. Se la sigla di TG3 avesse quella di Il Piccolo Regno di Beneoli, quella di TGA1 con quella di Citofonare Rai 2, quella di TG2 con quella di La Casa delle Api e quella di TG4 con quella di Bob's Burgers? No, perché la Rai e Mediaset non le faranno mai. 2, Carlo. Il nuovo TGA1 sarà disponibile dall'8 settembre alle 20. I Simpsons o i Griffin? Tutti e due. La piscina o il mare? Tutti e due. TG con 24, Rai News 24, Sky TG 24 o Sky Sport 24? Tutti e quattro. 3, Ciro. MTV è il canale televisivo dedicato alla musica e alla televisione con una programmazione rivolta principalmente a un target giovanile. E 4, Christian. Se la TV a colori ritornasse a bianco e nero? No. La mia passione è un programma televisivo italiano di genere talk show, in onda dal 2017 su Rai 3, ideato e condotto da Marco Marra. Improvviso Rai è stato un programma televisivo in onda su Rai 2, dal 18 luglio 2019 al 26 febbraio 2020. Vero è più vero è un altro programma della Rai. Tutto chiaro è stato un programma televisivo italiano, spin-off di uno mattina estate, in onda su Rai 1 dal 17 giugno al 6 settembre 2019 con la conduzione di Monica Marangoni. E con il mega video è tutto. Ciao a tutti cari ragazzi e cari signori e alla prossima.